Ritroviamo ancora sui giornali di questa mattina la campagna di confusione e di disinformazione che è in atto da settimane in relazione alle primarie del Partito Democratico. Si diano pace tutti quanti, le primarie si faranno. Ci sono domande alle quali nessuno potrà sfuggire e cioè chi è in grado di governare questa regione, chi è in grado di affrontare risolvere i problemi della sanità e dei trasporti, chi è in grado di andare nella terra dei fuochi e dire si risolve la tragedia ambientale avendo la credibilità per dirlo, poiché è già dimostrato di saper risolvere i problemi dell'ambiente. Dunque sereni tutti quanti, le primarie si faranno, Napoli e la Campania non saranno la colonia di nessuno. I nostri figli, le ragazze e i ragazzi della Campania sono più importanti della politica politicante e anche delle bandiere di partito.